Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video test. Oggi ci proviamo tutti i prodotti più virali di NYX Cosmetics perché se siete un po' nel giro di Instagram, TikTok, insomma, saprete che ci sono tanti prodotti di NYX che ultimamente sono andati parecchio virali. Tutto il web ne ha parlato, tutti li hanno provati, a parte me lo farò oggi insieme a voi. Ma la mia domanda è, sono realmente così fantastici o è soltanto un trend del momento di cui tutti per forza devono parlarne? Oggi testeremo insieme qualche prodotto tra cui la cipria, can't stop, won't stop, il correttore siero che questo proprio era introvabile, un prodotto per le sopracciglia e vi farò vedere anche altre cosine che già utilizzo da tempo e che mi piacciono. Se volete saperne di più potete continuare a guardare il video, ma prima vi chiedo di seguirmi sugli altri social, mettere un pollice all'insù se questo video è interessante anche alla fine quando finite di guardarlo, iscrivervi al canale se vi fa piacere e dato che non ne parlo mai abbastanza, se vi interessa un corso base di makeup che ho fatto io con tantissime lezioni e tutte le tecniche che veramente vi insegnano come valorizzare il vostro viso, potete dare un'occhiata in descrizione. Si chiama Giulia Benchic Academy e vi consiglio di dargli un'occhiata perché sono sicura che vi piacerà tantissimo. Iniziamo dal fondotinta, utilizzerò questo qui che è il Born to Glow, è un fondotinta che mi piace tantissimo, utilizzo da un sacco di tempo. Dà un effetto molto naturale, coperenza media, media alta stratificabile, consigliato da pelli secche a quelle normali, a quelle miste che non siano eccessivamente grazie. L'ho fiondato anche sulla scrivania. Si sfuma benissimo sia con il pennello che con la spugnetta, veramente super consigliato, mi piace un sacco. E nel frattempo vi dico che se volete acquistare qualche prodotto di NYX Cosmetics, ho due codici sconto che sono validi per voi, ve li lascio comunque sempre in descrizione. Il primo è Giulia Trend su Look Fantastic, il secondo è di Maki Beauty, ma siccome ogni mese cambia ve lo dovete andare a cercare in descrizione. Il primo prodotto super virale che ci andiamo a provare è questo correttore che si chiama Bare With Me Concealer Serum. Dovrebbe essere una specie di correttore siero, quindi coprente come un correttore ma leggero come un siero. Molti lo utilizzano sia sul contorno occhi che un po' in giro per il viso per dare un effetto di base leggera ma coprente in alcuni punti. Siccome ho parecchi brufoletti, perché quando mi spuntano quelli sulla fronte so che sta arrivando quel periodo del mese, so che la parte ormonale dovrebbe essere questa, ma non lo so, a me sono sempre spuntati sulla fronte. E la mascherina mi sta devastando questa zona. Sono tornata ad essere una sorta di adolescente in piena fase ormonale. È molto interessante anche l'applicatore perché non è come il solito correttore diciamo con il pennellino, ma è così con la pompettina. E questo mi fa pensare che farà un disastro ad applicarlo. Quindi ce lo andiamo a mettere sulla spugnetta giusto per evitare di fare proprio dei grandissimi disastri. Dai esci, ok. Partiamo con una goccina su uno dei contorni occhi. Anzi facciamo così, siccome mi sembra abbastanza ne mettiamo un po' di qua e un po' di qua. E vediamo come si stende, poi in caso ce lo andiamo ad aggiungere. Il colore mi sembra perfetto. Sono contentissima che ho azzeccato il colore giusto. La primissima impressione che ho è che è leggerissimo. A parte che si è sfumato in mezzo secondo e questa cosa mi piace tantissimo. Sembra quasi una sorta di crema colorata. Cioè proprio sembra una crema da mettere sul contorno occhi. Andiamo a metterne ancora un po' perché adesso andiamo qui sulla parte superiore, sulla palpebra insomma. Voi fatemi sapere anche se avete provato già questi prodotti perché so che tanti di voi li hanno acquistati. E scriveteci come vi siete trovati. Guardate, si è sfumato velocissimo. L'effetto da così mi sembra veramente bello. Mettiamone un po' anche giusto sui punti centrali del viso. Vediamo se illumina la situazione. Così di primo impatto mi sembra anche estremamente idratante. Poi vediamo come si comporterà nelle prossime ore. Molto, molto bello l'effetto. Cioè mi sembra uno di quei prodotti wow, amore a prima vista sì, però vediamo che succede nelle prossime ore. Volevo zoomare un pochettino anche perché vedete che qui ho qualche bollicina. Vediamo se riesce a coprirla. Lo vado a tamponare su questa zona. Vediamo come si comporta. Nie, non è che proprio va a coprire benissimo. Vediamo un po' maschera il colore, però l'effetto è sempre estremamente naturale. Sicuramente non è un correttore che mi va a correggere tutti i brufoletti. Vogliamo fare una sorta di stress test? Andiamo a caricarlo un pochettino qui sulla zona del contorno occhi. E me lo vado a portare anche leggermente intorno al naso. Anche se alzi la mano, chi è che sta morendo di allergie in questo periodo? E inizia dalla primavera che è una stagione bellissima, ma purtroppo è una tragedia per le allergie. Anche andandolo a stratificare dà un bellissimo effetto. Non si impasta, non crea effetti strani. Rimane bello morbido e luminoso. Questo significa che dovete andare per forza, ma proprio per forza, a fissarlo con una cipria. Altrimenti tenderà a muoversi e andare nelle pieghette. Ma visto così mi piace da morire. Il prossimo prodotto che è andato estremamente virale è la cipria. Can't stop, won't stop, quella libera. Questa qui ce l'ho anche nel colore light anche lei. Ah, questa già l'avevo aperta, ve l'avevo swatchata. L'avevo messa da parte proprio per girare questo video. Prendiamone un pizzichino, battiamo bene l'eccesso e andiamo prima a stendere eventuali pieghette che si sono formate nel frattempo. E poi la andiamo a pressare su tutto il contorno occhi in modo estremamente delicato. Non voglio caricare la zona. Vado anche leggermente sulla palpebra superiore. E nel frattempo che la applico voglio spiegarvi una cosa. Questa cipria è andata estremamente virale perché le persone l'applicavano diciamo su un fondotinta abbastanza luminoso, non ancora fissato. Quando si applicano prodotti liquidi, soprattutto se questi prodotti sono un pochettino luminosi, è normale che vadano ad evidenziare i pori, cioè che si vedano ancora di più. Andando poi a metterci la cipria sopra, queste persone facevano Oh mio dio, guardate leva l'effetto lucido. Sì, lo fanno tutte le ciprie, non vorrei darvi questa brutta notizia. Andremo a vedere come si comporta nella giornata, però sappiate che il motivo per cui è diventata virale, io l'ho trovato un po' tipo, sì, lo fanno tutte le ciprie. Anche applicata sul viso mi sembra abbastanza leggera, è un po' a metà, non è né estremamente opacizzante che vi dà proprio quell'effetto tanto tanto polveroso, ma neanche di quelle ciprie leggerissime che vi lasciano il viso luminoso. Mi sembra, almeno per adesso, sia una buona cipria e si comporti bene. Adesso però, siccome è una cosa che faccio sempre con tutti i correttori, ve lo dico sempre, voglio prendere una polvere chiara come questa, una cosa che vi consiglio di fare, questo forse è l'unico prodotto, uno dei pochi di NYX che non utilizzeremo oggi, vado così con la spugnetta e vado sul contorno occhi perché la zona diventa più luminosa e il correttore si va a fissare ancora meglio. Altro prodotto che non ho mai provato prima è la Matte Bronzer, cioè questa terra. Mi intriga tantissimo il colore, non so se riuscirete a vederlo, ma non è estremamente arancione come tante altre terre, sembra leggermente rosata, almeno questa colorazione qui che ho io che è una delle più chiare. Vediamo se si stende bene sul viso, sono sempre alla ricerca di una buona terra, ecco il prodotto che cambia veramente da subito tridimensionalità al viso. Si vede un pochettino questo sottotono rosa, forse se fosse stata ancora più chiara sarebbe stata meglio per me, magari riuscirò a sfruttarla meglio adesso che inizierò ad applicare l'autobronzante. Si sfuma benissimo e non so se sia la terra il fatto che, non lo so, ci sia la cipria di base oppure un mix delle due, siccome dà proprio l'effetto di viso abbronzato, vedete che la sto applicando un po' a W così sul viso, non mi fermo soltanto sugli zigomi come faccio solitamente, perché mi allontano, sembra quasi che io sia stata al mare. Poi il consiglio che vi do sempre è di tornare indietro anche con il pennello della cipria, insomma aiutarvi un po' a sfumare il tutto. Molto molto carina, perfetta se cercate l'effetto, sono stata ieri al mare perché ha questo sottotono arancione rosino che sembra proprio quando vi abbronzate però vi bruciate leggermente. Non lo so, mi piace questo effetto, dovrei farlo più spesso, che ne dite? Adesso passiamo alle sopracciglia perché non posso più continuare senza farmi le sopracciglia, vado ad utilizzare una matita che già so che si comporta bene, che è la Precision Brow Pencil, è quella fatta in questo modo e ha da una parte lo scovolino, dall'altra invece ha la mina tagliata per diagonale. Eccola qui, molto molto carina questa matita, la utilizzavo un sacco di tempo fa, poi vabbè ce ne sono altre che mi piacciono di più, però se cercate una buona matita che non sia la classica a punta questa si comporta molto bene. Mi sono fermata, ho fatto quasi un sopracciglio totalmente perché mi sono ricordata che dovevamo provare questo qui e che volevo vedere come si comportava su un sopracciglio completamente struccato. Questo qui è il Thick It Stick It ed è andato anche questo super virale, cioè ho visto persone tipo mettere questo e fare oh mio Dio è il prodotto della vita, vediamo perché come potete osservare le mie sopracciglia sono trasparenti. Voglio capire quanto colora e come si comporta questo qui, eccolo è fatto in questo modo, mai aperto prima, andiamo a scoprire. Ha un bello scovolino, sembra quasi un mascara, guardate un po'. Eccolo qui, vi dico anche il colore, mi sta lacrimando un occhio, come mai? Io ce l'ho nel colore espresso. Ho anche delle notizie non troppo buone da darvi sul mio contornocchi perché il correttore si sta spostando tantissimo, anche se l'abbiamo fissato bene anche con la polvere quella chiara. Sento che è rimasto bello, morbido e idratante, ma noto che si sta un pochettino spostando. Sopracciglio di partenza, eccolo qui. Adesso andiamo a fare una prima passata così molto molto leggera per capire quanto colora. Prima passata leggera, non mi sembra che abbia colorato poi così tanto, è un gel colorato per sopracciglia. Magari sì, le fissa, però vedete che se non c'è qualcosa di partenza, se non c'è una base di sopracciglio colorato, non è che si riesca ad ottenere lo stesso effetto di una matita applicata anche in modo molto leggero. Se avete le sopracciglia già belle colorate, probabilmente vi piacerà perché vi darà un po' di volume che magari vi manca e vi aiuterà a tenerli lì al loro posto. Se invece non avete peli o ce li avete trasparenti come me, dovete comunque applicare qualcosa di base e poi andare con questo. C'è anche un altro prodotto che a questo punto sono curiosa se applicare qui sopra o forse non so che cosa fare. Facciamo così, andiamola a mettere da quest'altra parte. Questo dovrebbe essere una sorta di colla per sopracciglia perché tutti la mettevano e veramente avevano i peli incollati sulla pelle. È fatto in questo modo, sembra quasi una scatolina di attack e questo ce lo andiamo a mettere di qua sul sopracciglio che già ho colorato con la matita. È molto liquidina come formulazione, però mi sembra che vada a dare quasi l'effetto di peli proprio bagnati. Questo dovrebbe essere uno di quei prodotti perfetto se vi piace l'effetto di sopracciglia che vanno di moda adesso, quelle tutte tirate su, incollate, però sapete che non è per niente male l'effetto che dà, molto molto carino. Un altro prodotto super virale di NYX è il pennarello per sopracciglia, ma quello purtroppo non ce l'ho, quindi magari se l'avete provato scrivetemi com'è e se ne vale la pena provarlo. Adesso cerco di aggiustare la situazione, di far sembrare le due sopracciglia uguali e ci vediamo tra un secondo. Sopracciglia fatte, ho utilizzato un pennarello sopra tutte e due le sopracciglia, quello di Vip Makeup, perché non ho quello di NYX da provare, però mi sarebbe piaciuto testarlo, solo che non ci avevo proprio pensato. E mi sembra che l'effetto sia molto bello, mi piace l'effetto dei peli così sollevati, ma comunque in modo naturale, devo dire che preferisco questa parte rispetto a quest'altra. Adesso vado a fare una sfumatura molto leggera su entrambi gli occhi, perché tanto oggi non ci interessa degli ombretti, e poi applichiamo eyeliner e mascara. Mi sono portata un pochino più avanti di quanto vi avevo annunciato, ho fatto una sorta di mini smokey eyes e poi ho applicato l'eyeliner, tanto non sarei mai riuscito ad applicarlo mentre chiacchieravo con voi. L'Epic Ink Liner di NYX è un eyeliner che utilizzo da tantissimo tempo, mi piace molto. Non è il classico eyeliner in penna, perché questo ha le setoline qui come se fosse un pennello, è una sorta di eyeliner liquido in versione penna. Super approvato, veramente mi piace tantissimo. Adesso passiamo al mascara e utilizzerò il NYX On The Rise Volume Lift Scara, anche lui è uno dei miei mascara preferiti di sempre, e lo andrò ad utilizzare in combinazione con il Lash Booster, che è della stessa linea, ma questa è una sorta di primer. Diciamo che l'ho provato insieme a voi in un mini video, l'ho continuato a testare, personalmente non vedo tutta questa differenza, però dato che ce l'ho, insomma, sto cercando di utilizzarlo per cercare di finirlo, perché mi dispiace lasciarlo lì nel cassetto. Se volete utilizzare il mascara da solo, funziona bellissimo anche da solo. Trucco degli occhi completato, è semplicissimo, ma mi piace un sacco. Adesso manca ancora blush e illuminante, mi sentivo un po' vuota in questa zona, quindi prima di procedere dobbiamo assolutamente andare a dare un po' di colore a questi zigomi pallidi, quindi applico un pizzichino di blush e di illuminante. Molto, molto meglio così, adesso mi sembra di avere un po' di vita. Oggi andremo a mettere un rossetto rosso, che non è assolutamente una novità, non so neanche, anzi, se lo facciano ancora. Questo qui l'avevo trovato nel calendario dell'avvento di quest'anno di NYX, non mi ricordo di che cosa, forse di look fantastic. È un mini rossetto rosso, questo qui è il Matte Lipstick, nel colore Perfect Red, ma sapete che io non riesco ad applicarlo senza matita. Devo per forza disegnare un minimo il contorno. Vediamo se ho azzeccato un colore di matita che è più o meno uguale al rossetto. Sì, direi, direi di sì. Questi rossetti matt di NYX mi piacciono un sacco, perché sono opachi ma allo stesso tempo confortevoli. Non sono i più morbidi che abbia mai provato, però per quanto sono opachi, devo dire che sulle labbra sono veramente piacevoli da indossare. A questo rosso mi piace tantissimo. Questo è il trucco finito, prima di zoomare indietro, dategli un'occhiata così più o meno riuscite a farvi un'idea se vi piace o no il risultato. Adesso vediamo quali sono le mie prime impressioni su questi prodotti. Allora, mi focalizzerò sui prodotti che ho provato oggi per la prima volta, tanto degli altri già ve ne ho parlato, già insomma so che mi piacciono, altrimenti non li avrei neanche inseriti in questo video. La terra, molto carina, si applica proprio bene, si sfuma bene, non fa macchia ed ha questo effetto proprio di pelle baciata dal sole, che non saprei descrivere in un modo migliore. Per il momento sembra molto molto interessante. La cipria anche sembra carina, non ha seccato troppo, ma comunque ha asciugato la base e l'ha fissata. Anche lei sembra molto carina, si è comportata bene sul contorno occhi e sul viso. Vediamo quanto rimarrà opaca la base. Il correttore è la cosa che mi ha colpita di meno e mi dispiace tantissimo. Secondo me questo potrebbe comportarsi bene se ne applichiamo giusto proprio un filo sottilissimo su un contorno occhi che non è segnato, che ha veramente pochissime occhiaie, quasi per niente. Mi viene in mente una persona nella sua adolescenza, forse si adatterà benissimo in questo caso, anche se alla fine ha fatto un buon lavoro, però ho paura che alla fine della giornata si possa un po' andare ad infilare nelle pieghette. Vediamo come si comporta prima di dare il giudizio finale. È possibile insomma che migliori nell'arco della giornata e questo prodotto devo assolutamente provarlo anche un po' sparso sul viso. Avete presente quando non vi va di truccarvi, di mettere fondotinta correttore cipria, ma di andare a metterne un po' così sulla spugnetta e stenderlo magari sui punti centrali del viso con appunto la spugnetta o aiutandomi con un pennello. Lo proverò sicuramente in questo caso, magari anche d'estate, visto che è così bello, fresco, luminoso e leggero, potrebbe essere un buon prodotto. Vediamo, ho bisogno di testarlo un po' meglio. I prodotti delle sopracciglia carini, ma questo qui, la colla diciamo Attack, mi è piaciuta un sacco. Stavo vedendo adesso che ho il braccio più chiaro del viso. Vabbè, dobbiamo abbronzarci un pochettino. Questa colla mi piace un sacco perché va proprio a schiacciare i peli verso l'alto, ma non dà un effetto bagnato, non dà un effetto appiccicaticcio. Sembra un sopracciglio molto naturale, anzi molto più naturale di quello che realizzo solitamente. Continuerò ad utilizzarla con molto molto piacere. Anche questo qui è parecchio colloso, nel senso che va proprio lì a fissare i peli al suo posto, anche lui molto naturale. Però tra i due ho preferito questo trasparente perché riesco a giocare un po' di più con la matita sotto, con il pennarello poi sopra a disegnare vari peletti. Secondo me questo si comporta bene se già avete un bel sopracciglio di base. Come vi dicevo prima mentre lo applicavamo, se avete già un bel po' di peletti, una forma abbastanza carina che ha bisogno giusto di essere un po' aggiustata magari sull'angolino oppure andare ecco a fissare i peli perché ce li avete un po' ribelli, secondo me questo potrebbe piacervi. Comunque questo è il risultato per il momento. È possibile anche che a fine giornata mi vedrete con i capelli bagnati con la maschera in testa perché devo assolutamente lavare i capelli però oggi ci tenevo a girare questo video. Quindi queste sono le mie impressioni, ci aggiorniamo o a metà giornata se proprio succede qualcosa di stranissimo oppure direttamente stasera per vedere che cosa succede. Ragazzi siamo arrivati alla fine di questa giornata che è stata per me estremamente stancante ma proprio psicologicamente, cioè forse per i miei occhi più che altro perché sono stata 8.000 ore davanti al computer e non ce la faccio più e devo ancora andarmi a lavare i capelli come si può ben notare. Infatti non vedo l'ora di sciogliere questa coda. Avete presente il mal di testa? Vabbè, sto parlando tantissimo di cose che non c'entrano nulla. Quindi tornando ai nostri prodotti, che cosa ne penso? Come si è mantenuto il trucco nella giornata? Il rossetto non c'entra niente con questo video ma è pazzesco, è proprio bello bello bello. Questo rosso mi piace tantissimo. Tutti i prodotti che ho provato devo dire che mi hanno soddisfatta abbastanza. Rimango dell'idea della mini recensione che vi ho fatto prima, delle prime impressioni. La cipria devo dire che non è così tanto pacizzante come mi sarei aspettata. La mia base è leggermente lucida, si può vedere anche adesso. Dalle varie cose che avevo sentito un po' sul web, mini recensione, mi sarei aspettata qualcosa che avesse mantenuto l'oleosità un pochino più a lungo. Però alla fine, molto naturale, la trovo una bella via di mezzo. Né troppo pacizzante ma neanche luminosa che non va ad asciugare abbastanza o che appunto lascia la base appiccicosa o unta. Una via di mezzo. Se cercate qualcosa che dia un effetto naturale mi sembra carina. Ovviamente continuerò a testarla anche con altri fondotinta perché comunque questo di NYX Cosmetics a fine giornata, già di su un po' tende a lucidarsi, la metterò alla prova con altri prodotti. Per il resto, rimango dell'idea di prima, l'unico prodotto che proprio devo continuare a testare perché non l'ho ben capito, è il correttore siero. La notizia buona è che si è mosso leggermente solo all'inizio. Avete presente quando gli ho detto oddio si sta spostando. È soltanto stato uno spostamento di assestamento, poi è rimasto lì perfetto ed è arrivato identico a com'era stamattina adesso. Carino, ma devo capirlo per riuscire a darvi proprio tutte le mie impressioni. Per eventuali aggiornamenti ci vediamo come al solito a fine mese nel video dei preferiti in cui vi aggiorno sui prodotti che ho testato, che ho messo alla prova durante il mese e che mi sono piaciuti veramente. Per il video di oggi è tutto. Fatemi sapere come vi sembrano questi prodotti e se realmente sono così fantastici come tutti dicevano in questi video super virali. Io vi ringrazio tantissimo per avermi guardato. Se vi fa piacere lasciatemi un po' di amore con un cuoricino un pollice all'insù o iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimissimo nel prossimo video. Ciao!